ma bella a tutti ragazzi oggi siamo qui in un nuovo video e oggi come promesso dopo un po' di tempo ovviamente in quel video è arrivato a 7 like quindi delle cose mettiamo nel bicchiere delle schifezze ecco sto parlando già male di merda iniziamo subito allora iniziamo con iniziamo col questa volta lo faccio col succo dai allora scusate mettiamo un po' si ma non tanto perché dopo è un casino un casino vedete ah e passate anche sul canale di bomber urto allora tutto in grande tutto attaccato se mi segui cioè perché io ho due canali allora iniziamo a mettere il ketchup il ketchup lo vabbè insomma allora iniziamo a metterlo nel succo grazie ah se questo video arriva massimo dai ce la possiamo fare a 10 like non mi chiedo tanto dai 10 like e ne porterò un altro però tipo non so con il mio amico oppure donna oppure da solo però ditemi dove dove cioè con cosa con cosa devo mettere dentro sotto nei commenti commentate e iscrivetevi allora poi sai cosa potremmo mettere sai cosa potremmo mettere aspetta che sto guardando sto guardando che cazzo è sto ma che schifo ma che schifo ma cos'è sto potremmo mettere esattamente questa cosa del cinesimo perché ieri ho mangiato il cinese allora mia mamma ha preso un po' di sta guarda guarda che schifo butta butta ok vabbè appoggiamolo prendiamo anche il cucchiaino per così anche per girare perché ovviamente no che schifo questo è sport non mi hanno pulito porca troia si può aprire ah aggiungiamo un po' di vino giusto giusto poco perché diopo ragazzi diopono non lo so ne ho messo un quintale Dio casca guardate perché è rosso perché ci ho messo un po' di vino c'è un po' Dio boh che schifo ragazzi oh madonna che schifo allora assaggiamo adesso aspettate non so se allora eccola che schifo ragazzi buonissimo guarda lo sto mandando veramente giù porca puttana ma che schifo va a fare in culo madonna ragia ok allora ho trattato tre minuti allora non ci vuole lavare questa cosa spero che il video vi è piaciuto spero che il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ragia grazie grazie grazie